Ciao a tutti, in questo tutorial vedremo come costruire la sezione aurea di un segmento utilizzando chiaramente GeoGebra. Nella tradizione la sezione aurea viene costruita con riga e compasso. Per noi la riga sarà data dalla funzione retta o dalla funzione segmento mentre il compasso sarà dato dalla funzione circonferenza. Cominciamo subito tracciando il nostro segmento quindi andiamo a cliccare semplicemente sulla parola segmento. Ecco qua il nostro segmento. Il secondo passo è creare il punto medio del segmento AB. Potremmo farlo sempre con riga e compasso, diciamo, utilizzando una costruzione ma GeoGebra ci dà già la funzione punto medio. Non ci resterà che cliccare su questa immagine e cliccare poi sugli estremi AB. automaticamente ci verrà dato il punto medio C. Poi vogliamo creare un segmento che sia la metà del segmento AB e sia perpendicolare sempre al segmento AB, quindi passante per esempio per questo estremo. Quindi che cosa facciamo? Prima di tutto tracciamo la retta perpendicolare al segmento AB. Clicchiamo su B e sul segmento e ci verrà data automaticamente la perpendicolare. Per individuare su questa retta un segmento che sia la metà di AB non ci resterà che tracciare la circonferenza di centro B e raggio BC. Ecco qua che abbiamo individuato il segmento BD che è la metà di AB. Visto che questa circonferenza non ci servirà più possiamo toglierla semplicemente cliccando su questo punto. Il secondo passo, no scusate, il terzo passo ormai è quello di creare una circonferenza che passi per D e abbia raggio BD. Quindi clicco di nuovo su circonferenza centro e punto, clicco su D e su B. Perché ho creato questa circonferenza? Perché adesso dobbiamo vedere l'intersezione tra questa circonferenza creata e il segmento AD che adesso disegniamo, quindi clicchiamo su A e su D. Poi clicchiamo su punto e di nuovo qua. Adesso, una volta che abbiamo individuato il punto E, siamo pronti per tracciare una circonferenza con centro A e raggio AE. Questa individuerà sul segmento B la sezione aurea. Quindi di nuovo prendiamo la funzione circonferenza centro e punto, clicchiamo su A e poi su E. Questo punto individua sul segmento AB la sezione aurea che è il segmento AF, ovvero è il medio proporzionale tra AB e FB. Ora, per individuare solamente il nostro segmento non ci resta che togliere tutto il resto. Quindi togliamo il punto medio C, poi togliamo la perpendicolare e togliamo proprio l'intersezione, le varie circonferenze che non ci servono più. Quindi c'è rimasto solamente il segmento B con la sua sezione aurea che è il segmento AF. Ritengo questa attività molto utile da fare con gli studenti perché si vede appunto la costruzione di riga e compasso utilizzando un programma molto utile. Inoltre, come tutti sappiamo, la sezione aurea ci può dare moltissimi spunti di riflessione e possiamo quindi applicare la matematica alla natura, all'architettura, all'arte, eccetera, eccetera. Spero che vi sia stato utile e ci sentiamo prossimamente per i prossimi video. Grazie a tutti.